Si chiama Cover Garden Market e sta per iniziare uno show, dietro di me ci sono dei prestigiatori che avevano provato anche a venire a Roma all'IBM ma dice che non gli hanno risposto, va bene, volevano fare una conferenza all'IBM. Ed ecco qua che sta per iniziare lo spettacolo, un cavalletto, un treppiedi di quelli per piano e sopra una valigia. Basico, 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 eppure è quello che basta per iniziare lo show. Vediamo, ecco, colpi forti, colpi forti per attraire l'attenzione. Prima ha fatto cadere a terra la valigia e attraire l'attenzione. Plateare il teatro, il teatro è questo, magia è teatro, bisogna enfatizzare, accentuare e è quello che sta facendo volontariamente questo ragazzo creando forti rumori. Questo è teatro, questo è magia, non è la parte finale della carta che arriva in cima al mazzo, ma è fare qualcosa che crea l'attenzione, che crea lo stupore. E cos'è quello che sta facendo? Praticamente questo è tutto quanto il preliminare della magia. Forse questo, mi ha detto, non è il ragazzo che fa più giochi di prestigio, però noi siamo qua e questo è quello che passa. Continuiamo, eh? E questo è il gioco, che fa parte di tutto quanto della performance, la cacciara. E quando la cacciara diventa arte, buona magia a voi. E in effetti è questo, accentuarli così. Basteremo poi dopo, adesso andiamo a fare un giretto al mercato. Ha provato a segarla, ma non è andata. Bella giornata di sole, eh? Non ci possiamo lamentare. È andata abbastanza bene. Ho portato anche qualche vestito in più, ma non è che serve. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.